Gli stili d'orso e delfino sono una gara impegnativa, impegnano da un punto di vista tecnico, ma le società ormai si sono attrezzate per questo, la qualità si sta alzando notevolmente. Con le gare di d'orso e delfino si è svolta alle piscine di Dalmine, la quarta prova del campionato provinciale di nuoto del CSI, che conferma un'adesione molto forte delle categorie giovanili. Ho qui gli atleti più giovani della mia squadra perché penso che si debba partire da qui, da queste categorie. La partecipazione è veramente entusiasmante, sono tutti belli carichi, anche i piccolini. Il campionato poi tra l'altro sta andando anche molto bene, la squadra calcinate sta piacevolmente giungendo al traguardo e le altre squadre insomma si danno da fare. 14 le squadre in gara alla quarta prova con un totale di 730 iscritti, 11 le categorie maschili e 10 quelle femminili. Sono nella squadra Swimming Bergamo, sono arrivato sedicesimo con 23,1 di tempo. Sono dell'onda blu, è da quasi dieci anni che faccio nuoto, stanno andando bene, siamo al secondo posto dopo il calcinate.